Il 21 ottobre 2024, Rai 1 ha visto il trionfo della serie Mike con 3.400.000 telespettatori e uno share del 19,5%, confermandosi leader nel prime time grazie a una strategia di marketing mirata. Su Canale 5, il Grande Fratello ha intrattenuto 2.268.000 utenti con uno share del 18,2%, mentre su Rai 2, se mi lasci, non vale. Ha registrato un flop con solo 321.000 telespettatori e uno share dell'unto l'8%. Rai 3 con lo stato delle cose ha ottenuto 719.000 telespettatori e uno share del 4,4%, mentre Italia 1 con il film Black Sight, La Tana del Lupo, ha raggiunto 913.000 spettatori e uno share del 5,5%. La 7 con la Torre di Babele ha raggiunto 1.042.000 telespettatori e uno share del 5,4%. In Access Prime Time, Affari Tuoi ha dominato con 5.595.000 spettatori e uno share del 26,4%, mentre Striscia la Notizia ha visto una crescita raggiungendo 3.000 o 25.000 utenti e il 14,530%. Nel preserale, Reazione a Catena ha superato la ruota della fortuna. Infine, l'esordio di La Porta Magica con Andrea Delogoo è stato un flop con soli 250.000 utenti e uno share del 3%, evidenziando la difficoltà di attrarre il pubblico in un pomeriggio già stato.